L'istituzione del Parco Nazionale del Matese rappresenterebbe una fortissima opportunità per far crescere in Molise la capacità attrattiva in fatto di turismo, di attenzione alle eccellenze enogastronomiche, ma anche all'uso positivo dei percorsi culturali e ambientali. Una realtà che si avvarrà, come già accade, del supporto scientifico e delle enormi capacità di analisi e proposta dell'Università degli Studi, una realtà sempre più presente ed incisiva sul territorio della Regione. Molto importante l'istituzione del Parco Nazionale del Matese. Direi che questo territorio è strapieno di opportunità di sviluppo, di crescita, ha delle risorse veramente di grandissimo pregio. Si tratta di metterle a sistema, di metterle a frutto affinché queste risorse si trasformino in occasioni di sviluppo per il territorio di aumento della ricchezza, dei posti di lavoro e penso che questa occasione del Parco Nazionale del Matese costituisca un tassello importante rispetto a un mosaico che insieme stiamo costruendo. Il personale ricercatore e docente e anche tecnico e amministrativo dell'Università lavora con grandissimi risultati a livello internazionale e a livello nazionale. Figurarsi se l'Università degli Studi del Molise non si dedichi con passione e condivisione alle esigenze del territorio. Noi crediamo innanzitutto nelle opportunità che il territorio ha e vogliamo offrire un contributo in primis a questo territorio, a questa regione. Che cosa dal suo punto di osservazione si deve fare immediatamente? Bisogna fare in modo che oltre al taglio del nastro si dia immediatamente avvio alle iniziative concrete, bisogna mettersi subito al lavoro, far conoscere questa novità così importante e metterla a disposizione di tutti i fruitori che sono in tutto il mondo.